Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di PringiLuca Finalmente si avvicina il Natale, è vero, gli sto tirando un po' i piedi perché siamo solo al primo di dicembre ma ho deciso di avviare una piccola serie di quattro episodi dove andremo a vedere quelli che sono i consigli che vi posso fare per quanto riguarda i regali di Natale Oggi andremo a vedere l'episodio senza limite di prezzo Bene ragazzi, ho deciso di creare questa miniserie prima di tutto perché mi diverto e quindi mi piace andarmi a scovare tutti quelli che sono i prodotti più interessanti in questo caso senza limite di prezzo e poi perché se voi acquistate questi regali tramite il link che trovate qui sotto in descrizione mi supporterete e quindi mi aiuterete e quindi mi farete tra virgolette un regalo di Natale anche voi Detto questo direi di partire DJI Mavic Mini è il primo prodotto che vi consiglio perché è il nuovo drone della casa di DJI voi tutti sapete sicuramente quanto io amo la casa DJI perché ci mette veramente tantissima cura all'interno di tutti i suoi prodotti In ogni caso questo drone è al di sotto di un grammo della scaletta di 250 grammi che è il regolamento europeo Questo ci dà la possibilità di volare praticamente dappertutto tra virgolette Ovviamente bisogna stare molto attenti a non volare vicino agli aeroporti ma in ogni caso le zone sono ben segnalate all'interno della nuova applicazione che è uscita e poi dovete stare attenti a non volare su assembramenti di persone perché è veramente molto pericoloso a parte che ci sono delle multe belle salate In ogni caso è un prodottino veramente molto interessante perché ha un design molto accattivante Abbiamo due versioni disponibili come sempre la Fly More Combo e la versione standard La Fly More Combo contiene addirittura tre batterie che hanno un'autonomia dichiarata di 30 minuti Sulla carta dovremmo stare intorno ai 25 minuti che è veramente un'autonomia pazzesca Neanche il mio Mavic Air ci arriva In ogni caso è un prodottino veramente interessante che vi consiglio Trovate il link qui sotto in descrizione iPhone 11 è il secondo prodotto che vi sto qui a consigliare Perché beh semplicemente la Apple da qualche mese ormai ha rilasciato i nuovi iPhone che sono veramente spettacolari Non consiglio a tutti l'iPhone 11 Pro Beh per un semplice motivo Non è un prodotto adatto per tutti sicuramente se siete dei fotografi o degli utilizzatori accaniti dello smartphone È un prodotto che potrebbe fare al caso vostro Ma nella maggior parte dei casi per un utilizzo generico e tutto il resto consiglio iPhone 11 standard Magari in una delle bellissime colorazioni uscite Con un prezzo di 800 euro circa si trova su Amazon Sicuramente col Black Friday avrete trovato qualche offerta migliore Ma in ogni caso è un prodotto veramente eccezionale Che vi lascio qui sotto in descrizione Sono Smooth E il terzo prodotto che vi consiglio E beh ragazzi non posseggo nessun prodotto di questa azienda Ma vorrei tanto possederlo perché ne ho sempre sentito parlare bene E soprattutto mi affascina tanto sotto il punto di vista del design È veramente un prodotto molto accattivante Perché abbiamo la possibilità e l'integrazione con tutti gli assistenti vocali E soprattutto una sonorità spettacolare Almeno per quello che si dice E stando in tema audio vi parlo delle Beats Solo Pro Sono queste nuove cuffie della casa di Beats Sappiamo benissimo che è perfettamente collegata con la Apple E sono queste nuove cuffie che non sono over-ear Quindi non sono delle cuffie giganti che ci andranno a prendere tutta la testa Ma sono delle cuffie che si appoggiano in padiglioni al di sopra delle nostre orecchie Sono piuttosto compatte Ne ho sentito parlare veramente benissimo Le ho provate anche presso l'Apple Store E devo dire che l'audio è veramente spettacolare È vero potrebbero causare un po' di problemi Un po' di fastidio sulle nostre orecchie Ma in ogni caso è un prodottino che va tanto di moda È veramente bello Con tanti colori disponibili E quindi un perfetto abbinamento con tutti quelli che sono i nuovi iPhone Ha la cancellazione attiva del rumore e ad un prezzo veramente accettabile Vi lascio il link qui sotto in descrizione Passiamo adesso all'ultimo prodotto di questa compilation Ne abbiamo una fotocamera La fotocamera è sempre del mondo Sony Abbiamo una Sony Alpha 6100 Con lo schermino flippabile Come nel mio caso che è una 5100 Quindi una generazione precedente Ma devo dire che è un prodottino veramente eccezionale Ha un autofocus spettacolare E sicuramente si adatterà alla maggior parte di voi Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questa compilation unlimited Detto questo io non faccio altro che salutarvi E dirvi che qui sotto in descrizione trovate tutti i link per acquistarli e supportarli E inoltre vi dovete, dovete assolutamente iscrivervi al canale Attivare la campanellina e lasciare un bel like a questo video Inoltre condividete questo video con i vostri amici In modo tale da consigliare anche a loro quali sono i regali perfetti per voi E detto questo io vi saluto e vi dico che noi ci vediamo prossimamente Sempre qui sul mio canale YouTube Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti